il numero 23 per le puledri di due anni il numero 27 per i puledri di un anno il numero 37 per i puledri di due anni il numero 57 per le fattrici il numero 57 per gli stalloni il numero 27 per le fattrici e qui signori abbiamo tutti i campioni dell'edizione 2016 di Marina di Pietrasanta un'occasione incredibile con questo sole che ci ha graziato in questo weekend e ci ha accompagnato in questa bellissima manifestazione la giuria sceglierà uno di questi cavalli per il trofeo speciale trofeo Marina di Pietrasanta Best in Show e questa premiazione va a concludere l'edizione 2016 del cavallo puro sangue arabo e la manifestazione poi si ripeterà l'anno prossimo a seguire nel calendario italiano abbiamo tanti show di morfologia in tutta Italia se guardate nella sezione eventi del sito www.anicaors.org il sito dell'associazione nazionale italiana cavallo arabo troverete tutto il calendario con i programmi dettagliati di ogni singolo evento corsa, endurance o gare montate a seguire il sito www.anicaors.org 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 signori il risultato è unanime la giuria ha individuato come best in show il miglior cavallo del concorso vincitore di questo trofeo il numero 6 di Asila Royal Color per Donna Bella il vincitore, la vincitrice delle puledre di un anno Dubai Arabian Horse Stud un applauso comunque a tutti i restanti partecipanti cui va il nostro saluto il nostro ringraziamento per la partecipazione www.anicaors.org www.anicaors.org Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco che entrano i rappresentanti. C'è la consegna del trofeo. E' il sindaco di Pietrasanta, il dottor Massimo Mallegni, a consegnare il trofeo Best in Show a Di Asila, allevamento Dubai Arabian Horse Stad. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questa premiazione la manifestazione del cavallo puro sangue arabo si è conclusa. Ma non andate via, ci sono altri cavalli da vedere. Passiamo dal Medio Oriente alla Spagna. Abbiamo i signori Marino Bresciani e Gilman Ennio con Elisabetta che vi presentano un numero in scuola spagnola. Quindi per ora finiamo la manifestazione del cavallo puro sangue arabo con un grosso applauso per la vincitrice del trofeo Best in Show di Asila dell'allevamento Dubai Stad. Con questo salutiamo e ringraziamo tutti gli altri.